La stagione lirica che inizia stasera dove ci sarà anche il maxisfermo aperto a tutti i casertari, ci sarà un'offerta gratuita e tutti a Piazza Carlo III potranno vedere la grande stagione lirica sia stasera, sia venerdì prossimo, sia l'altro lunedì. Abbiamo Sonare che il 12, il 17 e il 19 ci porterà tre grandi spettacoli a Caserta ma soprattutto tre grandi intuizioni per portare artisti, portare culture, eventi e portare a fare finalmente comunità. Poi una grande cosa, noi regaliamo nei tre giorni di stagione lirica mille biglietti come città di Caserta per visitare il Belvedere di San Leo, cioè tante persone che stasera arriveranno su Caserta città e poi regaliamo 300 biglietti in Sonare a tutti gli anziani di Caserta per poterli fargli vedere gratuitamente questi spettacoli. La politica, come abbiamo detto in campagna elettorale, è protezione sociale. Noi dobbiamo dare ai deboli la possibilità non solo di avere assistenza materiale, non soltanto di avere assistenza morale, ma anche di avere la possibilità di passare una serata bella della loro vita. Quindi regaleremo 300 biglietti agli anziani per andare a vedere questi spettacoli. Grazie.